Il regista britannico Danny Boyle rinuncia a dirigere Bond 25, ad annunciarlo i produttori del prossimo lungometraggio sulle avventure del celebre 007. Alla base della decisione ci sarebbero differenze creative, hanno precisato. I produttori Michael Wilson, Barbara Broccoli e l'attore protagonista Daniel Craig hanno annunciato che a causa di differenze creative Danny Boyle ha deciso di non dirigere più Bond 25, ha indicato il sito ufficiale del film che non ha ancora un titolo definitivo. A maggio la società di produzione aveva annunciato che il regista premio Oscar era stato scelto per dirigere la pellicola, la cui sceneggiatura è curata da John Hodge. Quest'ultimo aveva già collaborato con Boyle in Trainspotting. Le riprese dovrebbero iniziare a dicembre e l'uscita del film è prevista per l'autunno 2019. Non è chiaro se l'addio di Boyle possa far slittare queste scadenze. Intanto i realizzatori hanno iniziato il casting per trovare il futuro cattivo e la Bond Girl, secondo la rivista Variety. In Bond 25 è la quinta volta che Daniel Craig, 50 anni, veste i panni della spia di sua maestà e anche l'ultima, come ha annunciato la star britannica nel 2017.